Ho detto perché le ultime volte mancavano delle cose, ho detto possiamo per favore controllare perché davvero mancavano delle cose Pronti? Dove fai adesso? Dai palline Vai a prenderle E' come il cavallino, si, è come il tuo cavallo ti piace Ho trovato Ho trovato Ho trovato Ho trovato Ho trovato Questo Salute Sembra Grazie.